Oh, salve, piacere. Benvenuto. Grazie. Allora, complimenti. Molto gentile, grazie. Bene, bene. Io porterei il mister a fare una visita. Grazie. E invece anche a godere del fantastico appascio. Eccolo là. Tu sei? Grazie. Romano di Roma, calciatore prima, allenatore fuori, allenatore tante squadre. Siamo qui il mister, pertanto è il tributo che merita. La riconoscenza nel calcio e nella vita dovrebbe essere un valore e lei la verità. Ed eccola qui oggi Roma, presente e conferire. Grazie. Questo estaccino doc di cui siamo orgogliosi ha fatto intendere che con il sacrificio e il lavoro costante è possibile raggiungere qualsiasi risultato, anche quelli che potevano accadere inarrivabili. Questo è lo spirito dell'italiana. Lo spirito della capitale che Ranieri ha portato con sé un uffa. Questo è lo spirito che deve essere ad esempio a tutti i cittadini. Non mi aspettavo una cosa del genere. Vedevo in una manifestazione dove venivano premiati i sportivi. Vedere così tanta gente qui per me è molto bello. Sono molto orgoglioso che la mia città si sia riloggiata di me. Ho ricevuto diversi premi. Questo di casa ha qualcosa di speciale. Per cui voglio dire a voi non arrendetevi se qualcuno vi scatta. Vivete i vostri sogni perché saranno la vostra forza per tutta la vita. Grazie. 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 Grazie